L'Italia e i suoi prodotti rappresentano da sempre un'eccellenza nel mondo. Il Made in Italy è il brand più apprezzato, ma anche tra i più venduti nei mercati internazionali, con una considerazione di altissimo profilo delle aziende nostrane, rappresentanti delle principali categorie merceologiche, tra cui manifattura, lusso, food e beverage, nuove tecnologie e digital ilt. Per quanto si cerchi di salvaguardare il Made in Italy, molti sono ancora i fenomeni legati alla contraffazione, che secondo le indagini OCSE alimentano un giro d'affari del valore di 32 miliardi di euro. A parlare della salvaguardia del Made in Italy, il CAD, Centro Artigianato Digitale a Cava dei Tirreni, primo spazio nato in Italia nel 2019, con lo scopo di rilanciare l'artigianato attraverso le tecnologie. Il Made in Italy è sempre più considerato sinonimo di qualità, non solo nei mercati tradizionali di destinazione del nostro export, ma anche dei paesi emergenti, dove stanno rapidamente crescendo le classi medie e con esse i potenziali fruitori dei prodotti di alta qualità provenienti dall'Italia.